Musica 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 Le mobilità che ho fatte in altre regioni erano basate su delle buste si sceglieva la busta poi si andava in commissione l'argomento precedente veniva interrogato altre mobilità che ho fatte in campagna senza fare i nomi delle città erano fatte più alla buona diciamo interrogazioni di gruppo qualcuna è fatta malissima perché mettono un sacco di stronzate e quindi ci fanno fare delle cose sulle cose sbagliate tipo nel massaggio cardieco hanno messo che noi ci dovevamo avvicinare di più quindi hanno messo la vecchia normativa non quella ultima che rappresenta due insufflazioni con 30 massaggi invece hanno messo quello con 2 e 15 l'ho detto a quello che ha organizzato i quiz e ha detto che io avevo ragione però loro avevano fatto così è un anno e mezzo che ha cambiato la normativa secondo me è una tarantella lo potete mettere tranquillamente no falle dire a qualcun'altra che sta meno avvelenato di me non posso dire niente no 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 io voglio bene c'ho una famiglia non posso compromettere fate parlare ad altri fate parlare ad altri ciao grazie è tutto bloccato bloccano il turnover hanno bloccato tutto tutti i ragazzi del sud Italia stanno lavorando al nord Italia è l'ultima novità ho saputo che una ragazza ha avuto la mobilità addirittura l'azienda gliel'ha rifiutata non l'ha fatta andare via dopo 6 anni che sta a Torino quindi stiamo proprio messi male scusa ma tu veramente vuoi sapere cosa penso no lei dice allora ambiente per nulla comfort comfort zero ok domande sbagliate cioè c'erano protocolli vecchi di anni fa poi cos'altro ti devo dire foglio di risposta sono 30 domande e là ne risultavano 40 nelle domande c'erano domande sbagliate quindi dovevi leggere un altro foglio cos'altro vuoi sapere? mobilità? non ci penso nemmeno io ritorno a Reggio Emilia sto in grazia di Dio si lavora da Dio grazie